Presidente Lolli, 16 milioni di euro per le aree di crisi, una boccata d'ossigeno per queste zone della nostra regione. Siamo la regione che è riuscita a ottenere il più alto numero, diciamo, circa metà, andiamo a 600 mila abitanti, metà del territorio regionale classificato come aree di crisi. Noi abbiamo accompagnato a questa legge, un milione e mezzo non è alla portata di tutte le aziende naturalmente, un nostro intervento con 16 milioni di euro per fare sulle stesse aree premiare le attività cosiddette in de minimis, cioè con investimenti da minimo 50 mila euro fino a un massimo, come dice l'Europa, di 200 mila euro. La cosa è particolarmente significativa perché noi abbiamo voluto inserire nella parte rendicontabile, quindi finanziabile, anche interventi che le aziende fanno sul proprio plan, sul proprio stabilimento per quanto riguarda il miglioramento sismico. Abbiamo già messo in campo più di 40 milioni di euro, siamo perfettamente in linea con quanto stabilito dal programma e con quanto negoziato con l'Europa. Credo sia una buona notizia, io debo dire che sulla vecchia programmazione il numero di imprese che ha partecipato è stato superiore alla dotazione, quindi noi ci aspettiamo che anche in questo caso ci sia una grande risposta che assorbirà interamente le risorse e qualora le assorbisse tutte le risorse potremo eventualmente ragionare su collocare altre risorse ancora.